In questa video lezione vedremo nel procedimento in autocertificazione e nel procedimento in conferenza di servizi quali sono gli adempimenti del SUAPE successivi all'esito favorevole della verifica formale. Vedremo quindi il rilascio della ricevuta definitiva o l'avvio del procedimento, l'attivazione degli endoprocedimenti e la trasmissione della pratica agli enti competenti per le verifiche. La prima fase successiva all'esito favorevole della verifica formale consiste nell'associare alla pratica gli endoprocedimenti connessi. Questa fase è uguale per tutte le tipologie di procedimento SUAPE. Vediamo direttamente sul sistema informatico come si procede. Accedendo al dettaglio della pratica lato operatore SUAPE, una volta effettuata l'assegnazione della pratica all'operatore responsabile e la successiva accettazione, il sistema propone automaticamente i pulsanti per l'avanzamento dell'iter. Vediamo quindi il pulsante per la richiesta di regolarizzazione formale della pratica che abbiamo visto la volta scorsa e il pulsante per dichiarare l'irricevibilità della pratica. Anche questo è stato approfondito nella video lezione relativa alla verifica formale. Quando la verifica formale ha esito favorevole occorre invece cliccare su verifica enti per poter attivare gli endoprocedimenti. Qualsiasi step dell'avanzamento dell'iter, cliccandoci sopra, mi chiede e conferma successivamente se voglio inviare la comunicazione riferita allo step stesso. Quindi cliccando ad esempio sulla richiesta di regolarizzazione mi chiede se è necessario inviare la comunicazione. Se clicco sì mi compare la maschera per l'invio della comunicazione che in questo caso è appunto di regolarizzazione della pratica. Adesso clicchiamo su annulla, se invece clicco no posso avanzare l'iter come se avessi inviato la comunicazione. Questo è utile ad esempio per saltare alcuni step in casi particolari quando ad esempio avessi riavviato l'iter a seguito di chiusura. In questo momento mi trovo la schermata come se avessi inviato una richiesta di regolarizzazione formale. Vedete i pulsanti sono cambiati rispetto al caso precedente perché non ho più richiesta di regolarizzazione formale che ho già richiesto ma mi compaiono il pulsante per la verifica enti e quello per l'irricevibilità. Quindi sul posto di aver richiesto la regolarizzazione formale e che la pratica è stata successivamente regolarizzata clicchiamo adesso su verifica enti per procedere all'attivazione degli endoprocedimenti. Confermo e il sistema mi mostra una maschera in cui suggerisce degli endoprocedimenti da attivare. Questo suggerimento è dato in base all'intervento selezionato alle condizioni spuntate e alle risposte fornite in tutti i moduli. In questo caso io mi ritrovo l'endoprocedimento IP0001 che è l'endoprocedimento relativo a lavori edilizi e quello relativo alla notifica dell'ufficio tributario comunale. Togliendo la spunta da solo consigliati posso selezionare qualsiasi tipo di endoprocedimento. Se voglio verificare che questi siano gli endoprocedimenti effettivamente corretti per la mia pratica esco da qui vado su pratica moduli e vado a controllare il frontespizio del modulo che nel mio caso è l'F13. Clicco su visualizza pdf apro il frontespizio del modulo e qui mi ritrovo il presente modello comporta l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti. Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili di trasformazione del territorio. È esattamente l'endoprocedimento che il sistema mi suggeriva quindi è corretto. In questo caso non ho altri endoprocedimenti da verificare perché se aprissi F13 allegato A vedrei che non ci sono altri endoprocedimenti perché è riportato sempre lo stesso. Quindi torno sul menu gestione clicco su verifica enti confermo e seleziono l'endoprocedimento che mi era indicato nel frontespizio del modulo nonché suggerito dal sistema. Potrebbe essere necessario aggiungere alcuni endoprocedimenti rispetto a quelli che il sistema suggerisce ma è un'evenienza abbastanza rara. In ogni caso raccomando sempre di attivare tutti e solo gli endoprocedimenti che si possono rilevare dall'esame della modulistica. Attivo anche l'endoprocedimento di notifica all'ufficio tributario comunale vedremo dopo per quale motivo. Salvo e in questo modo ho attivato associato gli endoprocedimenti alla mia pratica. Nei procedimenti in autocertificazione lo step successivo a quello dell'attivazione degli endoprocedimenti prevede il rilascio della ricevuta definitiva. La ricevuta definitiva è un documento firmato digitalmente che attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo. Non è quindi da intendersi come un sostituto di un'autorizzazione espressa ma semplicemente come un documento che appunto attesta la corretta ricezione della pratica e la sua regolarità formale. La ricevuta definitiva sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica che fino a quel momento è perfettamente equivalente. La ricevuta definitiva è inoltre inviata all'ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali. Questo è il motivo per cui, poc'anzi, abbiamo visto che il sistema suggeriva anche la notifica all'ufficio tributario comunale della pratica. Operativamente nel menu documenti all'interno del dettaglio della pratica è possibile scaricare il prestampato della ricevuta che può essere modificato, convertito in pdf, firmato e successivamente utilizzato per l'invio della ricevuta stessa. Ricordo che i prestampati che si trovano all'interno del sistema informatico sono generici ma possono sempre essere personalizzati a seconda delle esigenze specifiche di un swap o di un anteperzo. Successivamente nel menu gestione, nell'avanzamento dell'iter, una volta associati gli endoprocedimenti, il sistema propone in automatico il pulsante per l'invio della ricevuta. Questo avviene esclusivamente per i procedimenti in autocertificazione in quanto rilascio della ricevuta definitiva è una peculiarità tipica del procedimento in autocertificazione stesso. In caso di mancato o tardivo rilascio della ricevuta definitiva da parte del swap ricordiamo che la ricevuta automatica consente tanto l'avvio dell'intervento quanto l'esplettamento di tutti gli obblighi successivi eventualmente necessari come per esempio la comunicazione d'inizio dei lavori edilizi come ad esempio la trasmissione della comunicazione unica alla camera di commercio in caso di esercizio dell'attività, i controlli degli organi di vigilanza e qualsiasi altro adempimento previsto dalle norme vigenti. Nel caso di procedimento in conferenza di servizi o di procedimenti che prevedono comunque rilascio di atti espressi come ad esempio le sanatorie non è previsto il rilascio della ricevuta definitiva. Al suo posto al termine della verifica formale il swap invia all'interessato una comunicazione di avvio del procedimento quindi provvede entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della pratica o dalla sua piena regolarizzazione formale all'indizione della conferenza di servizi. Ricordiamo che l'atto di indizione della conferenza di servizi deve essere pubblicato sull'albo pretorio per un periodo di 15 giorni consecutivi e che questa pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità legale eventualmente previsto dalle norme settoriali applicabili ed è volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti previsti dall'articolo 9 della legge 241 del 1990. Nello step della trasmissione della pratica il sistema informatico associa automaticamente a tutti gli endoprocedimenti abbinati alla pratica come abbiamo visto prima gli uffici e gli enti terzi competenti per territorio per quel determinato endoprocedimento. Questo significa che la configurazione dell'ente terzo è estremamente importante in quanto un'errata configurazione dei parametri dell'ente fa sì che il sistema possa associare ad uno o più endoprocedimenti un destinatario quindi un ente terzo errato. Ebbene ricordare che ogni ente accreditato sul software regionale è pienamente responsabile ed è tenuto a verificare e aggiornare la propria profilazione in quanto il suo APE operativamente non seleziona l'ente a cui trasmettere la documentazione ma seleziona esclusivamente gli endoprocedimenti. L'abbinamento tra l'endoprocedimento e l'ente competente è effettuato automaticamente dal sistema. Ebbene anche ricordare che in caso di indisponibilità sul software regionale di un determinato endoprocedimento o di errata profilazione laddove questo fosse evidente e palese la pratica è trasmessa dal suo APE all'ente competente per le verifiche tramite PEC. Vediamo infatti che cliccando su trasmetti pratica sul sistema regionale e confermando il sistema mi ripropone gli endoprocedimenti che ho selezionato in precedenza abbinati automaticamente agli enti terzi che sono configurati per quelli stessi endoprocedimenti. Cliccando su queste frecce sposto gli endoprocedimenti proposti su quelli selezionati posso allegare la lettera di trasmissione e quindi cliccando su invia trasmetto la pratica agli enti terzi competenti. E' bene evidenziare che la trasmissione degli endoprocedimenti che viene effettuata sull'apposito step del flusso di avanzamento della pratica è relativa esclusivamente agli endoprocedimenti di verifica che sono quelli legati alle verifiche di merito sui titoli abilitativi connessi alla pratica stessa. Solo per quelli è necessario effettuare manualmente questa operazione di trasmissione della documentazione. L'altra tipologia di endoprocedimenti prevista dal sistema informatico su APE è quella degli endoprocedimenti di notifica. Questi servono esclusivamente per notificare la pratica a enti che devono riceverne notizia per mera conoscenza e non devono quindi compiere alcuna verifica sulla pratica stessa. A differenza degli endodi verifica che sono quelli per cui abbiamo visto la trasmissione poc'anzi, gli endodi notifica vengono trasmessi automaticamente dal sistema su APE. Nel caso dei procedimenti in autocertificazione la trasmissione avviene automaticamente all'atto del rilascio della ricevuta, nel caso dei procedimenti in conferenza di servizi la trasmissione avviene automaticamente all'archiviazione della pratica stessa. Il suo APE non è quindi tenuto a effettuare alcuna operazione manuale per la trasmissione degli endodi notifica che viene effettuata completamente in modo automatico. È bene ricordare infine che il sistema informatico su APE è impostato in modo tale da effettuare una trasmissione automatica della documentazione agli enti competenti per gli endoprocedimenti di verifica in caso di inerzia del suo APE. Nei procedimenti in autocertificazione dopo 15 giorni dalla ricezione della pratica, se il suo APE non ha rilasciato la ricevuta né ha dichiarato la pratica irricevibile, il sistema attiva automaticamente gli endoprocedimenti suggeriti sulla base della pratica compilata e trasmette la documentazione agli enti competenti per quegli stessi endoprocedimenti. Da notare questa operazione viene effettuata anche se il suo APE ha chiesto la regolarizzazione formale della pratica. Nei procedimenti in conferenza di servizi invece la trasmissione automatica avviene sempre dopo 15 giorni dalla ricezione della pratica ma viene inibita se il suo APE ha trasmesso la documentazione oppure se ha dichiarato la pratica irricevibile oppure se ha chiesto la regolarizzazione formale della pratica stessa. Questo perché nei procedimenti in conferenza di servizi la richiesta di regolarizzazione ha un termine più ampio che può arrivare anche fino a 30 giorni e quindi è corretto che il sistema non effettui la trasmissione automatica dopo soli 15 giorni.